Sull'edizione di Tutto Sport di oggi appare una situazione abbastanza chiara, quanto emerge ieri dal summit tra Allegri e la società, la possibilità di continuare insieme, non necessariamente un rinnovo, quindi il contratto che rimane fino al 2020, ma ci sono delle novità per quanto riguarda il mercato. E non vi dimenticate di cliccare mi piace, seguirmi nei link social e cose varie. Allora, attivate la campagna di notifica, a proposito che la cosa più importante non la stavo dicendo, la Juventus vuole un nome pesante al centrocampo, non basta Emre Can, non ce la fa da solo ad Emre Can a spostare la qualità all'interno del centrocampo, a spostare, tra virgolette, cioè a fare la differenza, quindi la Juventus avrebbe intenzione di prendere un nuovo nome. Questo nuovo nome sarebbe uno tra Pogba e Miriko Vissavic. Ovviamente sono nomi che, come vi ho detto tante volte in live, sono nomi quasi utopistici, che non hanno senso parlarne, cioè non ha senso parlarne in maniera approfondita in quanto sono nomi veramente molto difficili. Pogba per problemi di stipendio guadagna tipo 14 milioni di euro a stagione bonus esclusi, Pogba e Miriko Vissavic per problemi di cartellino, costa 120 milioni di euro e il Manchester è su di lui in maniera impressionante. Quindi fatemi sapere nei commenti chi preferireste tra tutte e due, se il ritorno di Pogba o l'acquisto di Savic, ma tenete presente che è un affare molto complicato, anche perché la Lazio non è interessata a nessuna contropartita tecnica che non sia un grandissimo nome. Tipo la Lazio lo aveva chiesto in campi uno tra Chiedira e Marchisio, una situazione che la Juve non vuole assolutamente accettare perché non vuole cedere un nome importante in Italia, così come Manzucic col Milan. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Ciao!